In Lead Packaging abbiamo studiato delle soluzioni per imballaggi alimentari che sono fatte in carta. Vogliamo essere capaci di dare delle possibilità alternative agli imballaggi in plastica, cercando di sfruttare al massimo tutte le performance che la carta offre in questo settore. Abbiamo combinato materiali con performance diverse, antigrasso, carta da forno, per dare soluzioni che vanno dal confezionamento al trasporto, alla cottura anche e poi all'utilizzo direttamente come materiali dove si può anche mangiare, su diverse tipologie di prodotti che vanno dal freezer, prodotti alimentari che sono freezer, ma anche prodotti alimentari freschi. Per cui non escludo che possiamo offrire sia all'industria che alla grande distribuzione, soluzioni plastic free, capaci di performare nel modo giusto per tutto quello che riguarda la necessità dei prodotti.